Si è parlato del rapporto complesso, a volte fumoso, tra magistratura, informazione e politica nella sezione speciale dedicata al giornalismo dell'Aquila Film Festival 2015. Nell'ambito del dibattito partecipato in seno al quale sono intervenuti i giornalisti Giuseppe Guastella del Corriere della Sera, primo di Nicola del Fatto Quotidiano, il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia d'Abruzzo ha definito poco chiari i presupposti che regolano il rapporto fra cronisti, magistrati e politica. Il rapporto è complesso perché sono poco chiari i presupposti ma se si partisse da quelli che sono i compiti di ciascuno e soprattutto se si partisse dal concetto che l'informazione, la corretta informazione non è solo un dovere del giornalista ma è un diritto di tutti i cittadini averla sarebbe molto più semplice. E così la stampa deve fare il suo lavoro, deve dare un'informazione ma anche la magistratura non deve avere nei confronti della stampa né diffidenza né tantomeno una forma di preclusione. Certo oggi la situazione sia sociale sia la situazione normativa pone dei limiti e secondo me è auspicabile che vengano... Parliamo ad esempio delle querele temerarie, chi è potente, chi è avvocati spesso metti in soggezione il giornalista. Questo non guardi, il giornalista che fa correttamente il suo lavoro non deve essere in soggezione per una querela e così come il magistrato che fa correttamente il suo lavoro non deve essere preoccupato della gente che possa denunciarla. Se tu fai bene il tuo lavoro non devi avere questo tipo di preoccupazione. una delle prime regole che deve osservare il magistrato è di non parlare mai delle indagini e dei procedimenti che sono in corso e io mi ci attengo. Allora, chiamolo sguardo invece ancora di più c'è una legge regionale, una proposta di legge regionale per fare un osservatorio sulla legalità a livello regionale sulla ricostruzione. Il proponente del Movimento 5 Stelle manco firmato anche da altri consiglieri di altri partiti insomma abbastanza condivisa questa cosa parla soprattutto di un'emergenza che riguarda ad esempio il territorio del Bastese, con le aree di confine lì la criminità organizzata c'è, è inutile legarlo. Sua opinione? Sulla legge e sulle iniziative di natura politica ritorno, visto che è il tema della giornata su quello che è il comportamento deontologicamente corretto del magistrato di esprimersi dal dare valutazioni su compiti e attività che non sono le sue quindi la politica faccia il suo mestiere qualunque cosa faccia non è oggetto di valutazione né di commento da parte di un procuratore.